Per parlare con noi oggi Giuseppe Iovane, un'autorità nel campo delle malattie infettive degli animali, perché è professore ordinario di malattie infettive alla Federico II di Napoli e lo ricordiamo fino al 2010 è stato anche direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno che poi ha delle sedi nelle province meridionali, tra cui anche Salerno, quindi una grande autorità in campo. Professore Iovane, secondo lei innanzitutto che cosa sono le malattie emergenti e riemergenti? Buongiorno a tutti prima di tutto, per emergente noi intendiamo nuove malattie, cioè malattie che non conoscevamo nella storia, mentre riemergenti sono delle malattie che recentemente sono ritornate in auge per tantissimi motivi. Il primo punto che io metterei a fuoco stamattina è questo, cioè noi stiamo assistendo a dei fenomeni oramai meteorologici, però indirettamente influenzano anche quelli che sono dei vettori, cioè noi osserviamo questo riscaldamento del pianeta, cosa ha comportato il riscaldamento del pianeta? Ha comportato l'introduzione di vettori in aree geografiche dove non esistevano prima determinati patogeni, determinati malattie e poi ne faremo un esempio. Altre invece situazioni possono essere l'abuso di farmaci, sentivamo ieri il discorso di abuso di farmaci e problemi grossi li stiamo avendo alla tubercolosi, cioè non abbiamo più oramai le nostre armi di un tempo per combattere determinati patogeni, quindi ci deve essere molta attenzione ed educazione delle persone su questi argomenti. Infatti l'abbiamo detto qualche settimana fa, lo ha detto anche l'OMS, l'ha detto Margaret Chan, ci avviamo verso il 2030-2040, verso un'era, speriamo che non avvenga, quindi lo diciamo adesso, ma può darsi che non avverrà, un'era in cui i batteri saranno più forti degli antibiotici, perché ne avremo fatto talmente abuso, abbiamo detto tante volte, lo raccomandiamo, usiamo gli antibiotici solo quando c'è bisogno, che a un certo punto il nostro corpo potrebbe immunizzarsi e quindi i batteri potrebbero imparare chi sono gli antibiotici e quindi gli antibiotici potrebbero non essere più efficaci. Partiamo però, abbiamo quattro malattie questa mattina in pochi minuti da analizzare. La prima è la SARS, questa Siva Recute Respiratory Syndrome, che è un acronimo, sarebbe una sindrome respiratoria, è una malattia diciamo poco conosciuta, di cui abbiamo fatto conoscenza qualche anno fa. Nel 2003 precisamente, cioè questa è una malattia, è una malattia praticamente dove è una malattia virale, è un coronavirus, si è visto che il serbatoio addirittura, pensate un po', era il pipistrello, quindi dal pipistrello è passato all'uomo, ma in che modo? C'è una zona geografica che noi dobbiamo tenere particolarmente con molta attenzione, cioè è l'Asia, forse l'origine di tantissime malattie, ma perché? Perché ci sono dei mercati, cosiddetti mercati rionali, che vivono in una condizione igienica estremamente precaria, dove vivono a contatto troppo stretti animali come maiali, oche, zibetto, persone, insomma, quindi c'è una condizione per cui si possono creare delle mutazioni in questi virus e questi poi possono poi a questo punto passare all'uomo, quindi la SARS effettivamente parte da un pipistrello. Ho letto anche il dromedario. Può essere anche il dromedario, purtroppo sono condizioni che possono capitare in questi ambienti con scarse condizioni igieniche, io penso che questo sia il punto che dobbiamo focalizzare stamattina, cioè attenzione quando andiamo in visita, in turismo, in alcuni ambienti, dove è bello vedere tante cose, prodotti locali, però dobbiamo tenere molta molta attenzione e informarci prima quali sono i rischi del territorio in cui andiamo. Quindi attenzione alla SARS, poco conosciuta, ma temibilissima. Dunque, poi la cicungunia, questo nome strano, curioso, che però dietro il quale si nasconde in agguato una malattia molto temibile, che viene trasmessa da questo insetto, è vero? Che poi dovrebbe essere la zanzara tigre. Esattamente. Qui mettiamo un'altra nota ambientalista, cioè il problema di questa malattia è venuto fuori dalle deforestazioni che avvengono nelle Americhe Meridionali oppure in Africa. Che è successo? È successo che questo virus, con questa zanzara vettore, ha fatto sì che venisse a contatto con una popolazione maggiore, per cui si è diffusa questa malattia, che era presente solo in Tanzania. Ma nessuno sa che andando a farsi un viaggio, Maldive, Seychelles, Mauritius, questa malattia era diffusa, determina dei dolori muscolari. Infatti cicomunia significa malattia che torce, è una lingua nel magonde tanzanese, significa una malattia che spezza. Questa, pensate un po', è venuta fuori da, in Italia, abbiamo avuto 250 casi nel 2007, pensate un viaggiatore che in India, con una febbre a 40, prende un aereo, arriva a Bologna, e a Bologna, quindi, lui è in grado, cioè, punto da zanzare che erano già presenti in quel territorio, in quel caso la zanzara tigre, che sapete è arrivata in Italia nel 90, e quindi questo serbatoio, questo vettore, ha fatto sì che si sviluppassero 250 casi nelle zone vicino Bologna, Rimini, Cesenatico. Per fortuna, arginata, con un controllo proprio su questo vettore, su questa zanzara tigre. Sì, quindi attenzione alla zanzara tigre, ma quella che è comparsa dalle nostre parti, che sta attaccata vicino alle nostre finestre, credo che sarà un po' svaporata come potenza. Purtroppo, poverina, è stata soppiantata da questa zanzara un po' più aggressiva, che punge di giorno, mentre noi conoscevamo una zanzara che solo lavorava di notte, solo le femmine, chiaramente, mentre invece la zanzara tigre si è diffusa, pensate un po' attraverso l'arrivo di materiale dall'Africa, copertoni, si pensa di copertoni, ruote con acqua dentro. Acqua stagnante, ecco, per esempio, l'acqua. Infatti, la profilassi che è avvenuta contro questa malattia nella zona del Bolognese, Cesenatico e quant'altro è stato sui vettori, quindi evitare queste acque stagnanti d'estate, soprattutto, vedete, i sottovasi, sono importantissimi queste condizioni. Ecco, attenzione quindi ai sottovasi, cambiare l'acqua, attenzione a dove si scarica quest'acqua, non toccarla, tra poco dovremmo vedere nell'immagine anche i copertoni che ha citato il professore Ione, non so se ci arriviamo, ecco, comunque questi rifiuti, ecco qui, sono, come dire, terreno fertile. Fertile, certo, dove la zanzara depone le uova e si sviluppano 80.000 larve ogni volta. Sì. Oh, questi anti, questi zanzaricidi, questi spray, eccetera, quali effetti producono? Uccidono oppure fortificano poi gli animali? No, in effetti quelli che noi adesso utilizziamo, sono anche, si sono andati nelle bustine monouso che vanno messe anche in tombini, in, sì, oltre quindi a una profilassi che bisogna fare a casa, quindi funzionano anche, ancora per il momento, molto bene. Però ecco, vanno sempre monitorati, quindi ogni cosa dovete immaginare, prima si faceva l'esempio di... Eccolo qui, il famoso copertone, eccolo qui, qui c'è un'animazione molto simpatica. Sì, e pensate, questa zanzara è arrivata attraverso questa strada, però ha trovato anche una temperatura ideale che prima non esisteva, cioè ecco il riscaldamento del pianeta, come può influire sulle malattie infettive. Quindi adesso questa zanzara è diffusa fino al nord Europa, pensate un po'. Sì, qui sì, qui diciamo il fumetto, l'animazione ci diverte, però ci deve anche insegnare come dobbiamo guardarci, insomma, dal nemico dietro l'angolo. E questa è la cicuncunia, questa malattia febbrile che poi fa torcere, no? Sì, la malattia di artralgia per il termine. Eccola qui, che punge, ce ne accorgiamo poco, però poi dopo ce la portiamo dietro e possiamo poi propagarla ad altre persone. Bene, dunque terza malattia che trattiamo questa mattina, sempre per farne divulgazione, per come dire, spiegarvi a come bisogna stare attenti quando si viaggia o per lavoro o per piacere, la tubercolosi, che è una malattia credo riemergente, non so se dico bene. Questa diciamo veramente forse dovrebbe essere presa in considerazione da medici, veterinari, da tutti, insomma, che si occupano di queste problematiche. Pensate che in questo momento in Italia, nel mondo, muoiono due milioni di persone ancora per tubercolosi e sono quasi otto milioni le persone che possono essere malate di questa patologia, che è una patologia diffusa tra gli animali, tra gli uomini e quant'altro, è una patologia antichissima. Però cosa c'è di nuovo sotto al sole? Perché c'è questa condizione? Perché diciamo c'è stato anche un po' un abbandono delle case farmaceutiche al studio di nuovi farmaci e sono venuti fuori patologie da ceppi particolarmente aggressivi. Esistono dei ceppi cosiddetti MDR, cioè che sono particolarmente resistenti a molti farmaci, ma esistono addirittura ancora dei ceppi ancora più gravi, più pericolosi, si chiamano XDR. Sono ceppi che sono estensibili, cioè sono estensivamente resistenti ai farmaci. E con noi come la prendiamo? Mangiando le carni? La possibilità di contagio sono tantissime, dall'apparato respiratorio, le carni forse è uno degli ultimi problemi, perché abbiamo dei controlli veterinari veramente efficienti da questo punto di vista. E sono controlli che vengono fatti tre volte all'anno. Quindi diciamo abbiamo un problema soprattutto, dobbiamo dirlo, sull'immigrazione. Sembra, non vorrei essere razzista in questo momento, però è fondamentale questo aspetto. Da quali paesi può arrivare? Sono paesi dove non avvengono i controlli da parte del... Ad esempio? Ad esempio l'Africa, il Sudafrica. Sudafrica è il paese dove esiste un'emergenza tubercolosa legata anche a un altro motivo. In Sudafrica abbiamo tantissime persone HIV positive, una malattia immunodepressiva che cosa fa? Determina uno sviluppo poi della tubercolosi in maniera grave. E cosa è successo? Quindi la mancanza di farmaci. Le condizioni immunodepressiva hanno creato questi ceppi particolarmente resistenti ai farmaci. Come guardarci? Con i controlli? Controlli? Allora dobbiamo sempre sapere che l'organizzazione nostra, sanitaria in Italia, con tutti i difetti che abbiamo, resta una delle migliori. Ecco questo è il momento in cui possiamo propagare con le coccioline di tutti. Quindi ci vorrebbe un'attenzione maggiore nel momento in cui abbiamo un contatto con l'immigrazione. Anche nei paesi dell'Est? Anche nei paesi dell'Est. I paesi dell'Est è stato per esempio un problema molto forte nella Russia per quanto riguarda questi ceppi. Quindi attenzione quando abbiamo contatti con persone che vengono dall'Est. Dobbiamo chiedergli se si hanno avuto malattie, se si sono malati, se si sono curati, perché poi il problema è che magari si curano male e vengono qui ancora con il virus, con il batterio. Non è una batteria virale ma è una malattia infettiva. Beh diciamo che noi dovremmo un po' occuparci diciamo di possibilità di trasferire le malattie allertando un po' anche le frontiere. Se ricordiamo citavi prima l'influenza aviaria, c'è stato un periodo dove ogni viaggiatore veniva osservato se aveva o no temperatura. Sembra una condizione esagerata, però questa è fondamentale per quanto riguarda l'introduzione di malattie. Oggi un volo aereo in 20 ore stai da una parte all'altra del mondo, puoi portare sia il vettore che la malattia in incubazione. Sì. Bene, sì, infatti qui c'è un signore, un paziente che evidentemente è in cura di tubercolosi eccetera. Quindi chiudiamo questa carrellata sulle grandi malattie che sembrano poco, ci sembrano poco familiari ma che sono sempre in agguato, bisogna fare attenzione, che si trasmettono dagli animali all'essere umano, con la brucellosi che è una malattia che somiglia un po' a, come dire, la brucella che cos'è? È un batterio. È un batterio. È un batterio. Che è dal bovino, è vero? Dai bovini, bovini e caprini. Sì, diciamo si chiama brucella perché il nome deriva dallo scopritore che era un... Bruce. Bruce era un colonnello... Qualcosa la sappiamo anche noi. Era un colonnello che stanziava all'isola di Malta. Se ne accorse di questa malattia perché solo i graduati potevano bere del latte di capra, mentre invece i soldati semplici non potevano bere il latte di capra e quindi si accorse che questa malattia probabilmente era legata al latte. Però diciamo che oggi abbiamo la possibilità, i servizi veterinari effettuano due analisi all'anno su tutti gli animali e posso dire che in maniera diretta mi sono occupato di questa eradicazione proprio nel bufalo. Ecco che qui vediamo le immagini. Che cosa sta facendo adesso? Sta facendo dei privi di sangue due volte all'anno. Ogni bufalo per esempio viene controllato per questa malattia attraverso un'analisi che viene fatta presso l'Istituto Zoprofilattico. Teniamo presente che nel 2006 abbiamo abbattuto 40.000 bufali per questa malattia, ma da un 30-40% in alcuni territori di infezione siamo arrivati veramente a uno 0,5%. Quindi stiamo avendo grandissimi successi per questa patologia, quindi siamo in grado di poter essere, di dare tranquillità da questo punto di vista. Ricordiamo ancora una cosa che la mozzarella, il nostro fiore all'occhiello dell'economia campana è uno dei prodotti più controllati e che da questo punto di vista possiamo garantirla sia per quanto riguarda contaminanti ambientali, diossina, diossina simili e sia per quanto riguarda queste patologie. Noi oramai la esportiamo, pensate un po', un 12% arriva nei mercati esteri fino al Giappone. Noi possiamo, portiamo mozzarella quindi fino in Giappone. Quindi malattie assolutamente inesistenti, contagi assolutamente impossibili per i controlli che ci sono. Però ecco attenzione, ritorniamo ai viaggiatori. E se vado in Grecia e se vado in qualche altro territorio dove non esiste un ambiente così, diciamo, strettamente controllato dal punto di vista sanitario, ecco io sarei attento a determinati latticini che non ne so bene la provenienza. Le zone più a rischio posso dire un po' la Grecia per quanto riguarda formaggi ovicaprini, un po' l'America meridionale per quanto riguarda alcuni tipi di formaggi, sempre non controllati dalla sanità locale. Sì.